Presidente, Bologna Fiere ospita Enologica, un evento dedicato al mondo dell'enogastronomia, lo fa qua a Bologna in una sede davvero importante. Come mai questa scelta e che cosa porta alla città e al territorio? Enologica è una manifestazione molto bella, importante, realizzata in questi ultimi anni a Faenza da Giorgio Melandri, che è un grande maestro dell'enologia italiana e hanno ritenuto di poter fare la loro manifestazione da ora qui a Bologna. Pensando al ruolo che Bologna a questo punto può esercitare, sarà la manifestazione dell'enologia dell'Emilia-Romagna che ha una crescita di qualità notevolissima di produzione grazie al lavoro che ha fatto la regione Emilia-Romagna, l'Enoteca regionale e che può trovare ora qui a Bologna con la Enologica che comincia il suo cammino qui nel capoluogo della regione una possibilità ulteriore di crescita, di sviluppo, di conoscenze internazionali. Per Bologna Fiere è un altro evento che si aggiunge ai nostri. In queste due settimane abbiamo avuto il ciocco show, abbiamo avuto il mondo creativo, ora Enologica, almeno 250.000 persone in movimento. Noi crediamo molto a questo rapporto, a questo dialogo Fiera-Città e Città-Fiera. Pensiamo che ci sia una città internazionale che vive in Fiera Bologna e che c'è una città internazionale che vive nel centro storico della città. E allora Enologica, qui a Palazzo Re Enzo, è la dimostrazione di quante cose straordinarie possiamo offrire al mondo, all'Italia, a noi stessi. Lei ha detto i numeri, direi che Bologna Fiera ha un ruolo fondamentale nel far girare la Fiera di Bologna, l'economia del territorio. Insomma, 250.000 persone in pochi giorni, in due settimane non sono poche. Beh sì, ne siamo contenti. Abbiamo naturalmente il rammarico del motor show che ci manca. E stiamo pensando al nuovo motor show del 2014. Bologna Fiera è una parte fondamentale dell'economia di questa città, di questa regione, del nostro paese. Riceviamo, credo, 1.200.000 visitatori all'anno, oltre il 25% vengono da tutte le parti del mondo. Siamo certamente ben consapevoli che il nostro lavoro è quello di essere una piattaforma fondamentale di Bologna internazionale.